Comunicando, comunicando, intanto della vita io mi sto innamorando, comunicando, comunicando Ciao a tutti amici e amiche di Volumbrite, siamo qui in piazza d'armi in compagnia di Massimo Aguilar, presidente WISP, comitato di Torino e Mauro Stringat, walking leader, coordinatore gruppi di Cammino. Vi farò due domande, qual è l'importanza di aver portato il vostro progetto nella cornice dei dialoghi sulla salute? Beh, intanto sport e cammino significa relazioni, dialoghi sulla salute mi pare assolutamente azzeccato, no? Ecco, quindi a noi interessa costruire relazioni attraverso lo sport perché costruire relazioni ha a che fare con il benessere e quindi ci sembra assolutamente la cornice giusta. Perfetto, ottima risposta. Lei vuole aggiungere qualcosa? Allora passiamo alla seconda domanda. Cosa fate voi per la vostra salute? Dunque, cosa facciamo noi per la nostra salute? Io nello specifico sono, essendo un laureato in scienze motorie, faccio attività motoria perché fa parte del mio DNA, sono cresciuto facendo sport. In realtà credo che faccia bene a me, faccia bene a tutti approcciare al movimento inteso come conoscere il proprio corpo, quindi qualunque cosa uno faccia per la propria salute il primo passo è quello. Qualunque cosa faccia deve essere in quest'ottica, cioè per la nostra salute dobbiamo conoscerci, ascoltarci, che poi uno faccia yoga, che faccia atletica, che faccia palestra, pesistica, poco importa perché ognuno ha le sue propensioni, quanto l'approccio che ha quella disciplina e quanto è suo quell'approccio. Perfetto, grazie mille. Vuole dirci lei cosa fa per la sua salute? Io sono un luotatore e vado in canoa e quindi faccio quello, ma soprattutto faccio del mio meglio per promuovere lo sport per tutti e fare in modo che più persone facciano sport. Perfetto, vi ringrazio per la vostra collaborazione, arrivederci. E intanto della vita io mi sto innamorando, comunicando, comunicando.